Ok, ora c'è il nostro corso d'oro che c'è l'albenga Albenga che c'è l'albenga che c'è l'albenga giugofungurai che c'è l'albenga Ok, ragazzi E' l'albenga Ecco, abbiamo già chiesto A questo motore Garlenda su Fiat 500 clave Italia E questo Fiat 500 clave Italia Su Fiat 500 clave Italia E' l'albenga Ecco, è un Garlenda Yume, quelpa Golf Joe in Italia e a parte del bambino e al Giorgio a parte del bambino a parte del bambino una caratteristica che non va a valerci e la città di noi a parte del bambino del bambino e il bambino l'abbiaco in Italia Ok, ecco qua, garlin dashini è arrivata.